Come scegliere un phon da viaggio? Un asciugacapelli da viaggio moderno deve avere sia un bel design sia rispondere ad alcuni criteri molto importanti, dimensioni compatte. Nello scegliere un phon da viaggio innanzito fate attenzione alle sue dimensioni. Un apparecchio buono non deve occupare troppo spazio nella vostra valigia. Molte case produttrici costruiscono un manico ripiegabile del phon per renderlo ancora più compatto. Peso. Un altro parametro molto importante è il peso. I modelli da viaggio non devono pesare più di 700 grammi. Altrimenti diventeranno scomodi da trasportare in valigia. Potenza. Il parametro principale di qualsiasi dispositivo. L'informazione sulla potenza può essere indicata sul phon stesso o nei documenti. La potenza ottimale per quelli da viaggio è da 1500 a 1800 V2A. Non c'è bisogno di scegliere gli strumenti più potenti, in quanto essi sono destinati per uso professionale da chieri. Invece, con i phon dalla potenza a meno di 1000 V2A perderete troppo tempo per l'asciugatura e la piega. Il rivestimento dell'elemento riscaldante. La maggior parte dei prodotti in commercio hanno il rivestimento in ceramica o e tormalina. I vantaggi della ceramica sono la distribuzione uniforme del calore e l'ionizzazione. I phon rivestiti in tormalina lasciano i capelli. Levigati, setosi e brillanti. La chioma preserva la sua struttura integra anche essendo asciugata ogni giorno. Livelli di temperatura e velocità del flusso di aria. La possibilità di regolare la temperatura permette di impostare il livello più ad a seconda della struttura e lunghezza del capello. Nella maggior parte dei modelli sono previste due impostazioni di temperatura e di velocità. Inoltre, i molti asciugacapelli sono muniti della funzione dell'aria fredda che permette di fissare la piega. Per i dispositivi da viaggio gli accessori sono tanto importanti quanto per i phon comuni. Il kit può includere varie testine per acconciare i capelli in diversi modi. Questo accessorio moltiplica il flusso di aria. Quindi è permette di mettere i capelli in piega in tempo più breve. Aiuta a ondulare leggermente la chioma. In alcuni modelli il diffusore gira per aumentare ancora l'effetto. Testine tonde di vario diametro. Di solito sono comprese nella confezione con le spazzole asciugacapelli. Possono avere varie dimensioni per poter modellare i boccoli di varia misura. Per i phon da viaggio sono pure e molto importanti ed indispensabili le custodie termoresistenti per la conservazione comoda di tigli oggetti. Ricordatevi che più accessori include il phon più alto e sono le sue prestazioni più costoso sarà il modello. Tabella dei modelli. Remington di 7779 Descrizione, pro e contro, opinioni delle consumatrici. Remington di 7779 è un dispositivo moderno ed originale nel mercato degli asciugacapelli da viaggio. Il phon è stato pensato per l'asciugatura rapida dei capelli in qualsiasi situazione contemporaneamente per la cura delicata per evitare di eventualmente danneggiare la struttura del capello. Tre livelli di calore e due livelli di velocità del flusso di aria permettono di impostare i parametri ottimali di asciugatura a seconda del tipo della chioma. La tecnologia condizionante brevettata protegge i capelli dalla secchezza e fragilità durante la procedura. Apprezzatura, asciugacapelli, manuale, accessori per lo styling, custodia, peto termoresistente. Conclusione nonostante le sue dimensioni piccoli foneme e un flusso di aria calda molto potente e omogeneo sufficiente per asciugare i capelli di qualsiasi lunghezza in poco tempo. Le caratteristiche distintive del modello sono il suo design moderno, il sistema brevettato del fissaggio degli accessori, la scelta do delle impostazioni adatte per lavorare su tutti i tipi della chioma. Segno di spunta nero La tecnologia condizionante per rendere i capelli luminosi e morbidi custodia comoda. Illuminazione a led nessuno. Le donne scelgono questo fon per la sua leggerezza e design moderno, tanto più che il modello realizza il 100% tra le sue funzioni. Ho avuto la possibilità di utilizzare questo asciugacapelli qualche giorno di seguito e sono rimasta totalmente soddisfatta. A differenza degli strumenti normali, questo modello rende i capelli davvero morbidi, lucenti e da loro l'asto molto curato. Roventa CV 3312 Descrizione, pro e contro topignoni delle consumatrici Roventa CV 3312 è un fon da viaggio piccolo con il manico pieghevole che non occuperà molto spazio nella vostra valigia o borsa. Nonostante le sue piccole dimensioni l'asciugacapelli è abbastanza potente per l'asciugatura rapida dei capelli di qualsiasi lunghezza. Tra i vantaggi principali del fon c'è il biovoltaggio, grazie al quale è perfetto da portare in viaggio. È dotato di un anello da gancio per conservarlo comodamente sempre a portata di mano. Apprezzatura, asciugacapelli, manuale, concentratore. Conclusione L'asciugacapelli Roventa CV 3312 vi accompagnerà sempre nei vostri viaggi. È molto comodo da portarsi sempre nella valigia o nella borsa da viaggio. Le sue dimensioni compaiede il manico pieghevole permette di occupare poco spazio perfino negli zaini semplici. Segno di spunta nero Il manico pieghevole per la conservazione in trasporto comodi La potenza sufficiente per asciugare i capelli di qualsiasi lunghezza. Si può usare senza testine assenza dell'aria fredda Assenza della funzione della ionizzazione cavo corto. Molte donne lasciano le opinioni tosto positive sul modello Roventa CV 3212. Lo strumento ha delle dimensioni ottimali per Averlo sempre a portata di mano nei viaggi senza pesantire i bagagli. Alcune però, rimangono deluse del fatto che il produttore non ha provveduto per nessuna funzione destinata alla protezione della struttura del capello. Se cercate un dispositivo da viaggio economico, piccolo e potente questo modello sarà ottimo per voi. Il phone realizza al 100% e le sue promesse, asciuga rapidamente la chioma, ha il biovoltaggio ed costa poco. Remington di 1500 Descrizione, pro e contro t'opinioni delle consumatrici Remington di 1500 è un phone piccolo del design moderno dotato del manico pieghevole. Proprio le sue dimensioni ed il manico lo rendono rimale per i viaggi. Grazie al motore potente e due livelli di velocità riuscirete a impostare i parametri ottimali per asciugare i capelli di vario tipo e stato. Gli accessori inclusi nella confezione vi aiuteranno, oltre ad asciugare la chioma, a modellare le varie acquonciature. Apprezzatura, asciugacapelli, manuale, concentratore, mini diffusore. Conclusione Grazie alla sua potenza il phone Remington di 1500 può essere usato non solo nei viaggi ma anche a casa. Gli accessori alzano ancora di più le prestazioni. Segno di spunta nero Il manico pieghevole La potenza altissima per l'asciugatura rapida senza dell'aria fredda e dell'ionizzazione. Cavo corto Le ragazze che hanno usato questo modello hanno notato che il manico non è molto comodo visto che scivola spesso. Dalle mani per cui bisogna sforzarsi per tenerlo fisso. Into il resto il phone ha delle ottime prestazioni per me di asciugare ed acquonciare la chioma rapidamente. Secondo me il modello è abbastanza compat potente, ma ci vorrebbe anche una custodia per conservare comodamente tigli oggetti. Philips BAD-007 Descrizione, Pro e Controttopinioni delle consumatrici Philips BAD-007 è un phone compatto poco rumoroso che si prenderà cura dei vostri capelli lasciandoli morbidi, chilucidi e setosi dopo la procedura. A differenza dei modelli precedenti questo strumento è dotato di un intero sistema per la cura della chioma durante l'asciugatura. Nonostante il phone sia così compatto garantisce l'asciugatura rapida dei capelli di qualsiasi lunghezza. La funzione dell'aria fredda permette di fissare il risultato della piega senza la necessità di applicare alcuni prodotti cosmetici. Apprezzatura Asciugacapelli Manuale Concentratore Conclusione L'asciugacapelli sicuramente piacerà alle ragazze che viaggiano tanto e cercano un apparecchio non solo piccolo o equa potente, ma anche dall'asto moderno. Il dispositivo è perfettamente bilanciato per cui non dà fastidio al braccio nemmeno durante una procedura prolungata. Segno di spunta nero La funzione dell'aria fredda La protezione dei capelli Grazie all'ionizzazione Il manico pieghevole Per risparmiare spazio Nella valigia Voltaggio variabile Cavo corto Il modello guadagna prevalentemente le recensioni positive delle Donne che hanno già potuto valutare le sue prestazioni È comodo da usare sia a casa che in viaggio Occupa pochissimo spazio Io posso consigliare il phon non solo da portare in viaggio ma anche per uso quotidiano L'ho usato più di una volta quando avevo bisogno di portare il mio phon in palestra Entra facilmente nella borsa e non richiede molto tempo per completare l'asciugatura Ga, Maeolic Travel CX Descrizione Pro e contro Opinioni delle consumatrici Ga, Maeolic Travel CX è un asciugacapelli da viaggio perfeo Che vi permetterà di risparmiare tanto spazio nella valigia o nella borsa Grazie al suo manico pieghevole Un altro vantaggio del dispositivo è il bivoltaggio Molto comodo per i viaggi in tol mondo Una particolarità importante del phon è il rivestimento in tormalina dell'elemento riscaldante Perciò anche nel caso i capelli vengano asciugati ogni giorno e no, mantengono la loro salute e morbidezza La possibilità di regolare la velocità e temperatura permette di trovare le impostazioni ottimali a seconda della struttura del capello Apprezzatura Asciugacapelli Manuale Concentratore Conclusione Se volete prendere cura dei capelli non solo a vacasa ma anche in viaggio il phon ga Maeolic Travel CX vi sarà di aiuto Usandolo non vi dovrete preoccupare che i vostri capelli diventeranno sfibrati, secchi e fragili Segno di spunta nero Il manico pieghevole Il rivestimento in tormalina Regolatore della tensione La potenza ottimale per asciugare i capelli Di qualunque lunghezza cavo corto le donne che hanno provato questo phon hanno apprezzato la sua potenza Il funzionamento Praticamente silenzioso ed il concentratore per una piega più comoda Il modello come ti i altri presenti nella classifica sarà perfetto per i viaggi Però se cercate un dispositivo per usare anche a casa Optate per i modelli più potenti con il cavo più lungo Aega HT 5650 Descrizione Pro e controtto opinioni delle consumatrici Aega HT 5650 è un asciugacapelli con il manico pieghevole e filtro rimovibile Nonostante abbia delle più le dimensioni Ha delle prestazioni eccellenti Quali la potenza altissima La funzione dell'aria fredda Per fissare la piega è la funzione dell'ionizzazione per l'asciugatura più delicata che permette di prevenire la semezza ed altri danni ai capelli Il piccolo peso e misura permette di trasportare facilmente il phon in una piccola valigetta o borsa Apprezzatura Asciugacapelli Manuale Concentratore Conclusione La caratteristica particolare del phon Aega HT 5650 è la potenza di un dispositivo professionale L'asciugatura dei capelli Più lunghi e folti richiede solo pochi minuti Segno di spunta nero La funzione dell'ionizzazione A ed F o antistatico Il cavo è automatico retrattile Il filtro di aria rimovibile Nessuno l'asciugacapelli del produttore tedesco è molto apprezzato dalle donne che devono viaggiare spesso Oltre al manico pieghevole il modello è dotato del cavo automaticamente retraibile per cui non crea proprio ingombro nella borsa Secondo me certamente il phon ha un costo un po' più alto a causa delle sue comodità e prestazioni alte però pagando il suo prezzo Avrete uno strumento professionale perfetto per i viaggi Come asciugare i capelli in modo giusto Per riuscire ad acconciare i capelli il livello professionale in modo casalingo seguite queste regole semplici prima di iniziare L'asciugatura Tamponate l'accesso di acqua con l'asciugamano Dividete la chioma in alcune zone e iniziate ad asciugarla dalla nuca Tenete il phon nella vostra mano dominante così i vostri movimenti saranno più precisi ed efficienti La direzione del flusso di aria deve essere dall'alto verso il basso Dopo aver completato l'asciugatura applicate l'olio di Coop che aiuterà a rendere i vostri capelli morbidi e setosi Nello scegliere un phon da viaggio prestate più attenzione al suo peso e dimensioni anziché alle sue prestazioni I modelli nella nostra classifica non sono ingombranti quindi occuperanno poco spazio nella vostra valigia e dallo stesso tempo Vi aiuteranno a creare le acconciature in qualunque situazione I modelli nella nostra classifica non sono ingombranti quindi occuperanno poco spazio nella vostra valigia e dallo stesso tempo